Sono il gruppo sportivo Andicapati Toscana di Camaiore Lucca e l'isolotto UPD di Firenze, le società che in Toscana vincono la seconda edizione della Call to Action di Estra Le Buone Notizie di Sport. Alla seconda edizione del concorso di Estra Le Buone Notizie di Sport, per associazioni impegnate anche a svolgere la loro funzione educativa, hanno partecipato 44 società toscane, su un totale di 131. Estra acquista Ecocentro Toscana, la società che gestisce a Montemurlo, provincia di Prato, un impianto specializzato nel trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dallo spazzamento delle strade. Conclusi a Grosseto i lavori del nuovo polo per la valorizzazione della raccolta differenziata. Il nuovo impianto è gestito da Ecolat, società di Estra specializzata nella differenziazione dei rifiuti. Ecocentro Toscana